Siamo sicuramente una squadra molto competitiva, ogni giorno in allenamento entriamo con la testa pronta per dare il massimo. I coach sono sempre sul pezzo e riescono a trasmetterci un sacco di energia, quindi secondo me sarà un altro grande europeo. Speriamo di riuscire a fare insomma al massimo che si può. L'esperienza in America mi ha dato più consapevolezza di ciò che posso fare bene e sicuramente anche cosa posso migliorare. Per esempio il tiro è una cosa che ho sviluppato tanto là e credo di poterlo portare anche qui e sento un sacco la fiducia dei coach e delle mie compagnie di squadra, quindi comunque in campo cerco di dare ciò che la squadra ha bisogno e ciò che mi viene richiesto dai coach.